Musica Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore, oggi ho il piacere di avere nei nostri studi, fra Andrea Tirelli, pace bene e ben trovato. Pace bene e ben trovato, grazie a voi per l'invito. Grazie a te per averlo accettato, tu sei parroco a San Severo, a San Bernardino, hai anche una passione per la scrittura, infatti quello che presentiamo oggi è il tuo secondo libro, edito da SD Editrice, si intitola Con tutto l'amore che ho, ed è un romanzo che parte dall'incontro di due persone, due storie, due vite, posso utilizzare questo termine, ammaccate che insieme poi riscoprono la bellezza della speranza e di una luce nuova, senza svelare troppo. Sì, in effetti è così, è un modo che ho pensato di utilizzare anche nel precedente romanzo per raccontare queste storie. Mi piace, proprio in un atteggiamento di attenzione al bene, di attenzione alla speranza, mi piace far confrontare situazioni, storie, storie dove sicuramente ci sono stati dei vissuti fallimentari, anche a volte drammatici, come quella del protagonista di questa storia, e fargli fare un po' questo percorso di rinascita, attraverso l'esperienza del confronto, attraverso l'esperienza del dialogo, della conoscenza, anche attraverso l'esperienza del silenzio, degli sguardi, attraverso quel dialogo fatto di parole, ma anche di sguardi, di osservazione, di attenzione l'uno all'altro. E niente, poi mi piace raccontare, mi piace sempre fare in modo che queste storie finiscono al bene, finiscono e si chiudano in maniera positiva, è un modo per riannunciare il bene, per riparlare al mondo di speranza. Mi piace appunto che queste storie partano dai confini, delle situazioni anche più disparate, in questo caso la copertina ce lo racconta, si parte da un'esperienza all'interno di un carcere, con un protagonista che è lì naturalmente, non per fare le vacanze, ma per scontare la sua pena, e qui vive un incontro, un incontro con questa persona che invece lo aiuterà un attimo a guardarsi dentro, a recuperare la sua storia, a riprendere in mano la sua storia, utilizzando un po' la chiave della cultura, della conoscenza. Esatto, perché i due protagonisti di questa storia sono Patrizia e Pasquale. Patrizia e Pasquale. Pasquale è un detenuto nel carcere di Foggia, sta scontando una pena, Patrizia è un'insegnante, come dire, mette da parte il sogno della carriera, quella tradizionale, nella scuola e dà disponibilità per insegnare in carcere. Mi piace una frase che Patrizia pronuncia, non ricordo se la pronuncia lei, oppure comunque una frase che riguarda lei, lei decide così di portare un po' di bellezza in quegli spazi ristretti, quindi lei decide di portare, come dicevi tu giustamente, la conoscenza, la cultura in carcere, è lì l'incontro con Pasquale, un incontro che davvero cambierà entrambe le esistenze. Perché hai deciso di ambientare questo romanzo in carcere? Qualcosa ti lega all'esperienza delle case circondariali? Io ho avuto una piccola esperienza, devo dire la verità, è stata più un'esperienza di conferma. In quest'ultimo anno in cui sono stato paroco a Sansevero, ho fatto un'esperienza all'interno del carcere di Sansevero, ma davvero una breve esperienza con una piccola associazione nata per portare lì un'attività di lavoro. Prima di questo ero passato nelle carceri con un'altra iniziativa, con il pellegrinaggio del crocifisso di Sant'Amiano, e in quell'occasione avevo conosciuto l'esperienza del carcere, o meglio, avevo conosciuto le mura delle carceri, perché in effetti poi conoscere il carcere significa viverlo. Quindi queste due situazioni si sono incontrate nel momento in cui mi serviva un personaggio che avesse vissuto un'esperienza di confine, al limite della formazione umana. Quindi nell'immaginario collettivo il carcerato, il detenuto, è quello che fa scelte che non sono scelte legate a, o meglio, sono poco legate alla valorizzazione della bellezza, del bene. E a questo mi è piaciuto contrapporre l'esperienza invece di chi fa una scelta decisa, di andare a portare il suo talento, la sua capacità di parlare, già affermato in altri ambiti, perché Patrizia è un personaggio che già aveva lavorato in altre scuole e nella scuola riscuotendo successo, ma poi si accorge che quel successo è solo transitorio. A lei non serve avere successo, a lei serve far passare la cultura, avvicinare le persone alla bellezza, alla cultura. Naturalmente è una storia che io ho estremizzato, un po' esagerato, mi servivano due personaggi ai confini per poi permettere la rinascita, insomma l'incontro. Anche Patrizia è una persona che ha le sue ferite e anche a Patrizia servirà a guardare un po' nella storia, a curiosare nella storia dell'altro personaggio per imparare a riaccettarsi in qualche maniera, per guardare la sua storia con occhi diversi. Per fare un po' pace con se stessa, potremmo dire. Sì, chiaramente sì, anche per far pace con se stessa, per riaccogliersi in alcuni dei passaggi della vita. Fra Andrea, tu hai scritto anche un altro libro del quale hai parlato anche qualche tempo fa qui nei nostri studi a Padre Pio TV, si intitola Il viaggio di ritorno, anche questo è un romanzo. Scrivi libri, scrivi romanzi, non solo appunto per raccontare storie, ma anche perché con le tue storie, con questi romanzi, tu sostieni un progetto che si chiama Ti presto fiducia, un progetto di microcredito. Ci racconti di che cosa si tratta e soprattutto qual è l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo di questo progetto è semplice, l'obiettivo di questo progetto è cercare di aiutare le persone a non scivolare, a non cadere sotto quella che oggi è definita la soglia di povertà e quindi in qualche maniera intercettare subito un bisogno e dare una risposta immediata, una risposta economica. Il prestito è un vero e proprio prestito economico, parliamo di soldi che vengono messi a disposizione di persone per la risoluzione di problemi che sono quei problemi che naturalmente possono succedere nelle storie delle persone e sono quei problemi che nascono improvvisi, quelle emergenze economiche di fronte alle quali le famiglie oggi si trovano in grossa difficoltà. Questo progetto nasce, questa idea nasce ancora prima del libro, è nata qualche tempo prima, quando io mi sono chiesto appunto come poter fare per aiutare la gente a risollevarsi da quelle situazioni di fatica economica, troppe volte succede a noi paruci, a noi religiosi, a noi preti di sentirci arrivare delle richieste, che sono anche richieste giuste, di gente che ha bisogno di essere aiutata economicamente. Naturalmente quando poi si concedono dei soldi, quando si fanno delle collette ci si chiede anche se si è fatta una cosa giusta, se è opportuno, se è educativo mettere dei soldi in mano alla gente. La risposta mediamente è che non è educativo, perché è chiaro che si risolve il problema, ma non si aiuta la gente a vivere bene l'esperienza della gestione dei soldi, perché poi magari le stesse persone vivono questa esperienza in maniera sbagliata. Mi sembrava più educativo invece fare un percorso diverso, il percorso che da bambino anche io ho vissuto, quando conservavo parte dei risparmi, quando vedevo che i miei genitori facevano la stessa cosa, tenivano da parte dei soldi per arrivare a fare un acquisto, per arrivare a fare, così, per permettersi qualcosa. Oggi questo rapporto col denaro, insomma, nel nostro tempo è un rapporto complicato, è un rapporto che ha messo molte persone in ginocchio, è un rapporto sempre in grande crisi. È vero che c'è l'emergenza in alcune situazioni, ma è vero anche che bisogna un pochettino rieducare la gente a tenere in mano i soldi. Per cui... Sì, concretamente come funziona Ti Presto Fiducia? Ti Presto Fiducia funziona concretamente con questa possibilità di accogliere queste richieste che vengono portate in questo momento al mio ufficio parrocchiale, ma anche in altri posti dove ormai Ti Presto Fiducia sta crescendo un pochettino come rete e quindi ci sono anche altre persone coinvolte in questo progetto che ascoltano queste richieste, vengono valutate queste richieste. Naturalmente stiamo parlando di un'iniziativa che presta dei soldi, per cui si cerca di capire se il soggetto che sta chiedendo il prestito è abile alla restituzione, perché naturalmente stiamo parlando di prestito, cosa è diverso del dono, cosa è diversa è donare soldi. Noi vogliamo stimolare, attraverso questo prestito quello che vogliamo stimolare è proprio un rapporto di fiducia, un rapporto di confidenza e permettere a chi chiede i soldi di non sentirsi solo in questo momento in cui sta vivendo l'emergenza economica, ma poi anche di sentirsi accompagnato nel percorso di restituzione. Per cui una volta che viene stabilita la possibilità di concedere questo prestito, la persona viene accompagnata anche chiedendo a lui qual è la formula che preferisce, la ratizzazione, la grandezza delle rate. Naturalmente stiamo parlando di somme che vanno dalle 500 ai 1000 euro, sono prestiti modesti, ma che oggi ci danno la possibilità di risolvere problemi di persone. Si pensa per esempio all'acquisto di elettrodomestici, si pensa all'acquisto, alla riparazione di strumenti tipo auto, che poi ridanno la possibilità alla persona di ritornare al lavoro. In molti casi siamo intervenuti in queste situazioni, dando la possibilità alle persone di riacquistare degli strumenti, un computer, una macchina. Per continuare a lavorare, per andare sul posto di lavoro, per mettersi in carregiato in qualche modo. Certo. E chiaramente la forza di questo prestito è il fatto che è senza interessi. Noi non chiediamo nessun tipo di interesse, se non la somma che è stata concessa in prestito, nei tempi e nei modi che vengono concordati. E quindi se la persona che ha chiesto un prestito di 500 euro, pianifica di restituire in 10 rate 50 euro, sarà lui stesso a stabilire il giorno, a dirci qual è il giorno più vantaggioso per lui, poi noi ci aspettiamo e lo attendiamo per questa restituzione. Avete una pagina Facebook, avete anche un sito internet, ti presto fiducia, anche attraverso i quali è possibile ricevere informazioni anche sui tuoi libri, perché acquistandoli si sostiene questo progetto di microcredito. A me piace dire che acquistando questi libri si diventa azionisti un po' della nostra... Si diventa azionisti, benissimo. Della nostra piccola banca. Della nostra banca della fiducia. Ricordo i due titoli dei libri di Fran Andrea Tirelli, Con tutto l'amore che ho, che poi è una frase che il protagonista pronuncerà in un momento particolare del romanzo. Ecco, questo è il primo, è il secondo in ordine di tempo, e poi il primo romanzo di Fran Andrea Tirelli, Il viaggio di ritorno. Eccoli qua, li abbiamo inquadrati entrambi. Ti ringraziamo per essere stato con noi, torna a trovarci magari, se prossimamente ci sarà un'altra uscita, perché no, del terzo romanzo. Te lo auguriamo se c'è qualcosa in cantiere. Possiamo annunciare che qualcosa è in cantiere, qualcosa si sta muovendo, qualche altra storia. A me piace dire così, un'altra vicenda è venuta a visitarmi, a me piace raccontare queste vicende. Adesso spero, nel breve, chiaramente questo libro, il secondo romanzo è appena uscito, perché è uscito in settembre 2018, adesso si tratta di... Almeno quindi per un altro annetto dovrei portarlo in giro per parlare. Poi in realtà bisogna scrivere l'altra storia, quindi il tempo di riuscire a scriverla, vedere come funziona e pubblicarla. Grazie Efra Andrea per essere stato con noi, grazie, buon lavoro e buona scrittura. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a tutti.